c'era una volta un re e una regina chi vivevano insieme tranquillamente e avevano dodici figli tutti maschi allora il re disse alla moglie se il tredicesimo figlio che metterai al mondo sarà una bambina i dodici maschi moriranno perchè ella abbia grandi ricchezze e il regno tocchi a lei sola e ordinò dodici bare già riempite di truscioli e in ciascuna sarà un guancialino funebre le fece portare in una stanza chiusa a tutti diede poi la chiave alla regina e le ordinò di non parlare a nessuno della cosa ma la madre passava tutto il giorno in grande tristezza e il più piccolo dei figli che le stava sempre accanto e che l'aveva chiamato con il nome biblico di beniamino le disse cara mamma perché sei così triste mio diletto non posso dirtelo rispose la regina ma egli non le diede pace fino a quando ella non gli aprì la stanza e gli mostrò le dodici bare già riempite di truscioli poi disse mio carissimo beniamino queste bare le ha fatte fare tuo padre per te e i tuoi undici fratelli perchè se metterò al mondo una bambina voi dovrete essere tutti uccisi e sepolti qui allora il figlio rispose non piangere cara mamma ce la caveremo e ce ne andremo e la disse vai nel bosco con i tuoi undici fratelli e uno stia sempre di guardia sull'albero più alto che troverete e osservi la torre qui nel castello se nascerà un maschietto gli sarà una bandiera bianca e voi potrete ritornare se nascerà una femmina gli sarà una bandiera rossa e allora fuggite e che il buon dio abbia cura di voi ogni notte mi alzerò a pregare per voi d'inverno che possiate scaldarvi al fuoco d'estate che la calura non vi faccia languire dopo aver ricevuto la sua benedizione i figli sanno andarono nel bosco stavano in guardia uno dopo l'altro sulla quercia più alta e osservavano la torre quando furono passati undici giorni e il turno toccò a beniamino egli vide che veniva essata una bandiera ma non era bianca bensì rosso sangue e annunciava che dovevano morire tutti quando i fratelli lo seppero andarono in collera e dissero dovremmo morire a causa di una femmina giuriamo che quando ne incontreremo una ci vendicheremo e faremo scorrere il suo sangue vermiglio poi entrarono nel profondo del bosco dove era più buio e là trovarono una piccola casetta vuota ma era stregata allora dissero qui abiteremo e tu beniamino che sei il più piccolo e il più debole rimarrai a badare alla casa mentre noi andremo a cercare da mangiare andavano nella foresta e uccidevano lepri caprioli selvatici uccelli piccioni e tutto ciò che vi era da mangiare li portavano a beniamino che doveva cucinarli perché potessero sfamarsi vissero insieme nella casetta dieci anni e il tempo non parve loro lungo ma nel frattempo la bambina che la regina aveva partorito era cresciuta era bella e aveva una stella d'oro in fronte una volta mentre si faceva il bucato vide dodici camice da uomo e chiese a sua madre di chi sono queste dodici camice? per il babbo sono troppo piccole allora la regina rispose con il cuore grosso bimba cara sono dei tuoi dodici fratelli disse la fanciulla dove sono i miei dodici fratelli? non ne ho mai sentito parlare la madre rispose lo sai dio dove sono vagano in giro per il mondo presse allora la fanciulla le aprì la stanza e le mostrò le dodici bare con i truccioli e i guancialini funebri queste bare disse erano destinate a loro ma essi sono fuggiti di nascosto prima che tu nascessi e le raccontò quello che era accaduto allora la fanciulla disse cara madre non piangete andrò a cercare i miei fratelli prese le dodici camice partì e si addentrò subito nella gran foresta camminò tutto il giorno e la sera giunse alla casetta incantata entrò e trovò un ragazzino che le chiese dove vieni e dove vai e si meravigliò che fosse così bella portasse abiti regali e avesse una stella in fronte ed ella rispose sono una principessa e cerco i miei dodici fratelli e andrò fin dove il cielo è azzurro pur di trovarli e gli mostrò le loro dodici camice allora Beniamino capì che era sua sorella e disse sono Beniamino il tuo fratello più giovane e la si mise a piangere dalla gioia e Beniamino fece lo stesso e si baciarono e si abbracciarono con grande affetto poi egli disse cara sorella c'è ancora un problema avevamo deciso e patuito che ogni ragazza che si incontrasse doveva morire poiché fumo costretti a lasciare il nostro regno per una ragazza allora ella disse morirò volentieri se così potrò liberare i miei dodici fratelli no egli rispose tu non devi morire nasconditi sotto questa tinozza fino a quando arriveranno gli undici fratelli poi mi metterò io d'accordo con loro la fanciulla obbedì e quando scese la notte gli altri tornarono dalla caccia e la cena era pronta sedettero a tavola e mentre mangiavano domandarono che c'è di nuovo? Beniamino disse non sapete nulla? no risposero egli continuò voi siete andati nella foresta e io sono rimasto a casa eppure ne so più di voi orsù raccontaci esclamarono gli altri egli rispose mi promettete anche che la prima fanciulla che incontreremo non sarà uccisa sì esclamarono tutti le faremo grazia ma racconta allora egli disse qui c'è nostra sorella sollevò la tinozza e ne uscì la principessa in abiti regali con la stella d'oro in fronte era molto bella delicata e fine tutti allora se ne rallegrarono le saltarono il collo la baciarono e l'amarono con tutto il cuore ora egli rimaneva a casa con Beniamino e lo aiutava nei lavori domestici gli undici fratelli andavano nel bosco e cercavano selvaggina, caprioli, lepri, uccelli e piccioncini perché potessero mangiare e la sorella e Beniamino pensavano a prepararli ella cercava la legna per cuocere e le erbe per la verdura e le metteva sul bosco cosicché il pranzo era sempre pronto quando gli undici rientravano teneva inoltre in ordine la casetta e preparava i lettini con biancheria bianca e pulita e i fratelli erano sempre contenti e vivevano in grande armonia con lei per un certo periodo di tempo i due a casa prepararono buoni cibi e quando si trovavano tutti insieme sedevano, mangiavano, bevevano ed erano felici ma la casetta stregata aveva un piccolo giardinetto nel quale c'erano dodici gigli chiamati anche fiori di Sant'Antonio un giorno ella voleva fare un piacere ai suoi fratelli colse i dodici fiori e pensava di regalarne uno a ciascuno durante la cena ma come ebbe colto i fiori in quel medesimo istante i dodici fratelli furono tramutati in dodici corvi che volarono via per la foresta e anche la casa al giardino sparirono ora la povera fanciulla era sola nella foresta selvaggia e quando si guardò intorno vi era accanto a lei una vecchia che disse ah bimba mia che hai fatto? perché non hai lasciato stare i dodici fiori bianchi? erano i tuoi fratelli che ora sono tramutati in corvi per sempre la ragazza disse piangendo non vi è nessun modo per liberarli? no disse la vecchia non viene che uno in tutto il mondo ma è così difficile che non riuscirai a liberarli perché devi essere muta per sette anni e non puoi né parlare né ridere e se dici una sola parola e manca soltanto un'ora ai sette anni tutto è vano e i tuoi fratelli saranno uccisi da quella sola parola allora la ragazza disse in cor suo voglio liberare i miei fratelli ad ogni costo andò in cerca di un albero alto ci si arrampicò e lì filava senza parlare né ridere ora avvenne che un re andò a caccia nella foresta aveva un grosso levriero che corse all'albero sul quale si trovava seduta la fanciulla e cominciò a saltare tutt'attorno abbaiando e latrando verso la cima il re allora si avvicinò e vide la bella principessa con la stella d'oro sulla fronte e fu così rapito dalla sua bellezza che le domandò se voleva diventare sua sposa e la non rispose ma fece un lieve cenno con il capo allora egli salì sull'albero la portò giù e la mise sul suo cavallo le nozze furono accelebrate con gran pompa e tripudio anche se la sposa non parlava né rideva quando avevano trascorso insieme felici un paio d'anni la matrigna del re che era una donna cattiva cominciò a calunniare la giovane regina e disse al re è una volgare accattona quella che ti sei portato a casa chissà quali malvagità combina in segreto sei muta e non può parlare potrebbe almeno ridere ma chi non ride ha una cattiva coscienza il re da principio non volle crederle ma la madre insistette così tanto che egli alla fine si lasciò convincere e la condannò a morte nel cortile fu così acceso un grande fuoco da cui ella doveva essere bruciata e il re da sopra guardava con gli occhi pieni di lacrime poiché l'amava ancora tanto e quando era già legata al palo e le lingue di fuoco lambivano già le sue vesti ecco trascorso l'ultimo istante dei sette anni nell'aria ci di un frullardali arrivarono dodici corvi e si posarono a terra e come ebbero toccato il suolo si trasformarono nei suoi dodici fratelli liberati da lei essi distrusse il rogo spensero le fiamme slegarono la loro cara sorella la baciarono e la abbracciarono ora potei schiudere la bocca per parlare e raccontò al re perché prima fosse muta e non avesse mai riso il re si rallegrò che essa fosse innocente e vissero tutti insieme felice e in armonia fino alla morte la cattiva matrigna fu messa in una botte piena di olio bollente e di serpenti velenosi e morì di una mala morte un uomo aveva un asino che per tanti anni aveva fatto il suo dovere portando i sacchi al mulino ora però le forze lo stavano abbandonando e non era più in grado di svolgere il suo lavoro il padrone pensò di eliminarlo ma l'asino visto l'aria che tirava scappò via e prese la strada per Brema in città avrebbe potuto fare il suonatore di strada non cammina molto e si imbette in un cane da caccia che giaceva sdraiato a terra ansimando dalla stanchezza allora vecchio mio com'è che sei così stanco gli chiese l'asino si lamentò il cane il fatto è che sono vecchio e ogni giorno divento più fiacco non sono più capace di cacciare ed il mio padrone mi voleva ammazzare me la sono svignata ma adesso non so che fare per guadagnarmi un tozzo di pane puoi sapere una cosa mi prese l'asino io sto andando a Brema a fare il suonatore di strada vieni con me e datti pure tu alla musica io suonerò il liuto e tu i timpani il cane accettò con entusiasmo la proposta e proseguirono il cammino insieme non passò molto tempo e incontrarono per strada un gatto conciato da far pietà beh cosa ti è capitato vecchio baffone domandò l'asino c'è poco da stare allegri se ti vogliono fare la pelle rispose il gatto la mia padrona voleva farmi affogare già perché sono in là con gli anni e i miei denti non sono più tanto a guzzi sicché piuttosto che dar la caccia ai topi preferisco starmene al calduccio accanto alla stufa me la sono filata ma adesso non so che pesci pigliare che cosa posso fare vieni con noi a Brema tu te ne intendi di musica notturna e diventerai suonatore di strada il gatto apprezzò l'idea e si unì a loro strada facendo i tre vagabondi passarono davanti a una fattoria il gallo appolaiato sul cancello strillava più non posso strilli da far gelare il sangue nelle vene esclamò l'asino ci sono novità canto perché domani sarà bello rispose il gallo e si festeggia il giorno in cui nostra signora lava le camicie del bambino Gesù e le fa asciugare al sole peccato che domani ci siano ospiti a pranzo e la padrona una donna senza cuore abbia ordinato alla cuoca di mettermi nella zuppa così stasera mi tirerà il collo e io canto a squarciagola finché posso senti un po' testa rossa replicò l'asino perché non ti unisce noi andiamo a brema sarà certo meglio che farsi ammazzare hai una bella voce e se ci mettiamo insieme formeremo una gran bella orchestra al gallo la proposta piacque e si avviarono tutti e quattro insieme non riuscirono ad arrivare a brema quello stesso giorno e la sera si fermarono a dormire in un bosco l'asino e il cane si straiarono sotto un grosso albero mentre il gatto e il gallo si sistemarono tra i rami il gallo addirittura in cima perché per lui era il posto più sicuro prima di addormentarsi guardò bene da tutte le parti e gli parve di scorgere in lontananza un lumicino allora chiamò i compagni e disse loro che doveva esserci una casa poco lontano perché brillava una luce disse l'asino dobbiamo muoverci e andare a vedere questo alloggio è proprio scadente il cane dal canto suo si aspettava di trovare un paio d'ossi e della carne e così si misero in marcia la direzione da cui proveniva la luce cammina e cammina la luce si fece più chiara e brillante finché giunsero a un covo di briganti l'asino che era il più grande si avvicinò alla finestra e guardò dentro che cosa vedi bizzo gli chiese il gallo che cosa vedo rispose l'asino una tavola apparecchiata con ogni ben di dio e briganti seduti attorno che se la sfassano farebbe proprio al caso nostro disse il gallo ah sì mica male sarebbe e quattro suonatori si consultarono sul modo in cui avrebbero potuto cacciare i briganti dal covo e infine trovarono una soluzione l'asino doveva appoggiare le zampe anteriori alla finestra il cane doveva piazzarsi sul dorso dell'asino il gatto sulla schiena del cane e infine il gallo doveva alzarsi in volo e appollaiarsi sulla testa del gatto quando si furono sistemati a un segnale convenuto iniziarono tutti insieme a far musica l'asino ragliò il cane abbaiò il gatto miagolò e il gallo strillò il suo lacerante chicchiricchì poi si lanciarono dalla finestra nella stanza con tanta foga che i vetri tremarono i briganti si spaventarono a morte sentendo quel frastuono temettero che fosse un fantasma e fuggirono nel bosco a territi i quattro amici si sedettero a tavola e mangiarono di gusto tutto quel che era rimasto come se avessero dovuto far provviste per un mese terminato l'autopasto i quattro musicanti spensero la luce e cercarono un posto per dormire a seconda delle proprie abitudini l'asino si straiò sul letamaio il cane dietro la porta il gatto vicino alla braccia del focolare e il gatto e il gallo nel pollaio e visto che tutti erano stanchi morti per il lungo cammino si addormentarono subito dopo la mezzanotte i briganti del bosco videro che la luce era spenta e tutto sembrava tranquillo il capo disse non saremmo dovuti scappare come dei vigliacchi e ordinò a uno dei suoi uomini di avvicinarsi alla casa e fare un giro di perlustrazione il brigante trovò tutto tranquillo e andò in cucina per accendere un lume ed avvicinò un fiammifero agli occhi del gatto che al buio aveva scambiato per carboni ardenti ma il gatto a cui non piacevano gli scherzi gli saltò addosso soffiando e graffiandolo in faccia l'uomo spaventato scappò dall'uscita posteriore ma il cane che se ne stava sdraiato sullo zerbino lo prese al polpaccio e lo alzannò uscì in cortile ed attraversò il letanaio e l'asino gli sferrò un gran calcio con le zampe posteriori intanto il gallo che con tutto quel baccano si era svegliato appollaiato sul tetto strillò a gran voce chichiricchì il brigante corse più veloce che poté dal capo della banda e gli riferì in quella casa c'è una strega malefica che mi ha soffiato fiamme sul viso e mi ha graffiato davanti alla porta c'è un uomo con un coltello che mi ha ferito alla gamba in cortile poi c'è un demonio nero che mi ha picchiato con una clava di legno e sul tetto un giudice che grida voglio il brigante qui voglio il brigante qui meno male che sono riuscito a scappare da quel giorno i briganti non osarono più tornare al loro covo e i quattro musicanti di Brema si trovarono così bene che non abbandonarono più la casa nel bosco e chi ha raccontato questa storia ha ancora la bocca asciutta c'era una volta una povera donna che diede alla luce un maschietto e poiché il neonato aveva indosso la camicia della fortuna gli predissero che a quattordici anni avrebbe sposato la figlia del re dopo pochi giorni il re in persona giunse nel villaggio e senza farsi riconoscere domandò che cosa vi fosse di nuovo oh gli risposero è nato un bambino con la camicia della fortuna a quattordici anni sposerà la figlia del re ma il re la notizia non piacque e così andò dai poveri genitori e domandò se volessero vendergli il loro bambino da prima questi rifiutarono ma poi siccome lo sconosciuto insisteva tanto offrendo oro in quantità e loro non avevano neanche il pane quotidiano finirono con l'accettare e pensarono è un figlio della fortuna non gli mancherà nulla il re prese il bambino lo mise in una scatola e proseguì a cavallo finché giunse a un corso d'acqua profonda vicettò dentro la scatola e pensava così non diventerà il marito di mia figlia ma la scatola galleggiò e per grazia di dio non vi entrò neanche una goccia fu traccinata dalla corrente fino a un mulino a due miglia dalla capitale e là si impigliò nella diga il garzone del mugnaio la vide e la tirò a riva con un uncino pensava di trovarci dentro del denaro tanto era pesante invece quando l'aprì trovò un bel bambino allegro vispo il mugnaio e sua moglie non avevano figli perciò furono contenti e dissero è un dono di dio così ebbero cura del trovatello e questi crebbe pieno di virtù quando furono trascorsi circa tredici anni un giorno il re capitò per caso al mulino e domandò ai mugnai se quel ragazzo fosse loro figlio no risposero questi il garzone lo ha trovato in una scatola che era arrivata galleggiando fino alla diga quanti anni fa è successo domandò il re circa tredici anni fa sentite e gli proseguì il ragazzo non potrebbe portare una lettera a sua maestà la regina mi renderebbe un grande servizio e per questo sarei disposto a ricompensarlo con due monete d'oro come comanda sua maestà disse il mugnaio ma era accortosi che era proprio il figlio della fortuna scrisse una lettera alla regina nella quale si diceva appena arriverà il ragazzo con questo scritto si è ucciso e seppellito e tutto ciò si è fatto prima del mio ritorno il ragazzo si incamminò con la lettera ma si smarrì e la sera si trovò in una grande foresta nell'oscurità vide un lumino e si diresse e giunse a una casetta dentro non vi era altro che una vecchia che si spaventò nel vederlo entrare e disse dove vieni e dove vai vado da sua maestà alla regina le devo portare una lettera ma mi sono sbarrito e vorrei pernottare qui povero ragazzo disse la donna sei capitato in una casa di briganti quando saranno di ritorno ti uccideranno sono così stanco che non ce la faccio a proseguire rispose egli mise la lettera sul tavolo si straiò su una panca e si addormentò quando rientrarono i briganti e lo videro domandarono chi fosse lo sconosciuto l'ho accolto per compassione disse la vecchia devo portare una lettera alla regina e si è smarrito i briganti presero la lettera l'aprirono e lessero che il ragazzo doveva essere ucciso allora il capobanda la stracciò e ne scrisse un'altra dove si diceva che il ragazzo al suo arrivo doveva sposare la figlia del re poi lo lasciarono riposare fino al mattino quindi gli diedero la lettera e gli indicarono il cammino per arrivare alla regina non appena ebbe letto il messaggio questa fu felice nel preparare le nozze e poiché il figlio della fortuna era di bello aspetto la figlia del re lo prese volentieri come marito ed essi vissero felici insieme qualche tempo dopo il re fece ritorno al castello e quando vide che la profezia si era avverata e che il figlio della fortuna era sposo di sua figlia domandò spigottito come sono andate le cose che ho scritto nella lettera caro marito disse la regina qui c'è la tua lettera leggila tu stesso il re la esse e capì subito che era stata scambiata e domandò al giovane che ne fosse stato dello scritto che gli aveva consegnato non ne so nulla rispose devono avermela scambiata mentre dormivo ma il re incollerito disse no così non va chi vuole mia figlia deve riportarmi dall'inferno i tre capelli d'oro del diavolo se mi riporti potrai tenerti mia figlia li avrò rispose il figlio della fortuna si accomiatò da sua moglie e incominciò il suo viaggio arrivò a una grande città sulla porta la sentinella gli chiese quale fosse il suo mestiere e che cosa sapesse so tutto rispose il figlio della fortuna dici allora per favore replicò la sentinella perché la fontana della piazza da cui di solito sgorgava vino ora non dà più nemmeno acqua se ce lo dici ti daremo in ricompensa due asini carichi d'oro volentieri rispose il giovane aspettate che io torni proseguì e giunse davanti a un'altra città e anche questa volta la sentinella gli chiese qual è il tuo mestiere e che cosa sai so tutto rispose allora dici per favore perché un albero che di solito portava mele d'oro adesso non mette neppure le foglie volentieri rispose il giovane aspettate che io torni proseguì la sua strada e arrivò a un gran fiume che doveva attraversare il barcaiolo gli chiese che mestiere fai e che cosa sai so tutto rispose allora dimmi per favore disse il barcaiolo perché devo sempre remare senza che nessuno mi dia il cambio te ne sarò riconoscente volentieri rispose il giovane aspetta che io torni passato il fiume trovò l'inferno da dentro era tutto nero e fuliginoso e il diavolo non era in casa c'era soltanto sua nonna seduta su una grande poltrona che vuoi gli chiese i tre capelli d'oro del diavolo rispose il ragazzo se no non posso tenermi la mia sposa mi fai pena disse il se viene il diavolo ti ucciderà ma voglio vedere cosa posso fare per te allora lo trasformò in una formica e disse nasconditi fra le pieghe della mia sottana la sei al sicuro sì rispose quello vorrei anche sapere perché una fonte da cui di solito sgorgava vino non dà più nemmeno acqua perché un albero che di solito portava mele d'oro ora non mette più nemmeno le foglie e perché un barcaiuolo deve sempre remare senza che nessuno gli dia il cambio sono tre domande difficili rispose la vecchia ma sta zitto e fa attenzione a quello che dice il diavolo quando gli strappi i tre capelli d'oro non molto tempo dopo sul far della notte il diavolo tornò a casa fiutò a destra e a sinistra e disse sento odore sento odore di carne umana c'è qualcosa che non va allora lo vistò e guardò dappertutto ma in vano la nonna lo sgridò e disse non buttarmi tutto per aria ho appena spazzato siedi e mangia la tua cena hai sempre l'odore di carne umana nel naso allora il diavolo mangiò e beve poi posò la testa in grembo alla nonna disse che era stanco e le chiese di spidocchiarlo un po' non tardò ad appisolarsi soffiando e russando allora la vecchia strappò un capello d'oro lo strappò e se lo mise accanto ahi gridò il diavolo che c'è ho fatto un brutto sogno rispose la nonna e allora ti ho preso per i capelli cosa hai sognato ho sognato che una fontana da cui di solito sgorgava vino è asciutta e non dà più nemmeno acqua come mai ah se lo sapessero rispose il diavolo nella fontana sotto una pietra c'è un rospo se lo uccidono riprenderà a scorrere il vino la nonna si rimise a spidocchiarlo finché egli si addormentò e russava da far tremare i vetri allora gli strappò il secondo capello oh che fai gridò il diavolo furente non andare in collera e la rispose l'ho fatto in sogno cosa hai sognato di nuovo ho sognato che in un regno c'è un albero da frutta che prima portava mele d'oro e ora non mette più nemmeno le foglie come mai eh se lo sapessero rispose il diavolo c'è un topo che rosicchia la radice se lo uccidono darà di nuovo mele d'oro se invece il topo continua a rosicchiare l'albero si seccherà del tutto ma lasciami in pace tu e i tuoi sogni se mi sveglio un'altra volta ti buschi una sberla la nonna lo spidocchiò nuovamente finché gli si addormentò e si mise a russare allora gli afferrò anche il terzo capello d'oro e lo strappò il diavolo saltò per aria e voleva fargliela pagare ma essa lo calmò e disse sono brutti i sogni ma cosa hai sognato ho sognato un barcaiuolo che doveva sempre andare su e giù senza che mai nessuno gli desse il cambio come mai ah ah vabbè rispose il diavolo quando uno va per attraversare il fiume deve mettergli in mano la pertica allora lui sarà libero e l'altro trova farlo il barcaiuolo ma spidocchiami adesso che possa di addormentarmi allora la nonna lo lasciò dormire e allo spuntare del giorno il diavolo se ne andò quando si sentì al sicuro ella tolse la formica dalle pieghe della sua gonna e ridiedesse invianze umane al giovane poi gli diede i tre capilli d'oro e disse hai sentito ciò che ha detto il diavolo sì rispose il figlio della fortuna e terrò tutto a mente non ti occorre altro disse ella ora vai per la tua strada e gli ringraziò la nonna del diavolo e lasciò l'inferno quando giunse dal barcaiuolo che doveva trasportarlo dall'altra parte del fiume questi voleva avere la risposta promessa portami prima dall'altra parte disse ragazzo poi te la dirò e come scese dalla barca gli diede il consiglio del diavolo quando viene qualcuno che vuole essere portato sull'altra riva mettigli la pertica in mano e scappa poi il giovane proseguì e giunse alla città dove si trovava l'albero rinsecchito e anche la sentinella gli chiese la risposta allora e gli disse quello che aveva sentito dal diavolo uccidete il topo che lo sicchia le radici e l'albero tornerà a dare mele d'oro la sentinella lo ringraziò e come ricompensa gli diede due asini carichi d'oro che dovettero seguirlo infine arrivò la città della fontana prosciugata e anche lì la sentinella volle avere la risposta nuovamente e gli riferì le parole del diavolo è un rospo sotto una pietra cercatele e uccidetelo e la fontana tornerà a dare vino la sentinella lo ringraziò e gli diede altri due asini carichi d'oro il figlio della fortuna giunse finalmente a casa da sua moglie e si rallegrò di cuore rivedendolo e sentendo che tutto era andato bene egli diede i tre capelli d'oro del diavolo al re così che questi non trovò più nulla da ridire e quando vide i quattro asini carichi d'oro disse tutto contento ma dimmi caro genero da dove viene tutto quell'oro è un'immensa ricchezza l'ho trovato vicino al fiume rispose il figlio della fortuna e ce n'è ancora posso prenderne anch'io domandò il re pieno di avidità quanto ne volete rispose il giovane sul fiume c'è un barcaiuolo fatevi traghettare da lui dall'altra parte c'è oro in abbondanza allora il vecchio re si precipitò in fretta e furia e quando giunse al fiume fece cenno al barcaiuolo che lo prese con sé ma come furono dall'altra parte e il re volle sbarcare il barcaiuolo gli mise in mano la pertica e saltò a terra così il vecchio dovette remare come punizione per i suoi peccati e lo fa ancora? come no certo nessuno gli avrà tolto il remo c'era una volta nella città di Hamelin in Germania era una città molto graziosa ma aveva due grossi difetti i suoi cittadini erano molto avari e le sue cantine piene di topi di gatti neanche l'ombra perché siccome quel cosina costavano ai padroni erano stati scacciati fatto si è che i topi diventavano tanti e tanti che non era più possibile vivere nella città si pensò allora di far tornare i gatti scacciati ma i topi li misero in fuga era una vita beata la loro ce n'erano di tutti i tipi topi, topini, ratti, rattoni e per tutti c'era da mangiare nei granai nelle cucine dove c'erano molte forme di formaggio i poveri cittadini non sapendo più che fare si rivolsero al loro sindaco ma anche quello più che dire cercherò farò non so insomma non faceva ma ecco che una mattina comparve in città un ometto minuto tutto brio e allegria che disse al sindaco io vi libererò dai topi ma voglio in cambio mille monete d'oro al sindaco la richiesta non parve esagerata e promise la ricompensa scambiando con l'ometto una bella stretta di mano l'ometto allora prese da un sacchetto che portava a tracolla un piffero e diede due o tre e zufolate subito i topi che erano nello studio del sindaco nascosti qua e là balzarono fuori e quando l'uomo uscì lo seguirono il pifferaio continuò a suonare in strada e nuvoli di topi lo seguirono squittendo felici nelle loro testoline vedevano montagne di formaggio tutte per loro vedevano dispense con ogni ben di dio pronte ad essere saccheggiate e la marcia triontale del suonatore continuò da tutte le case uscivano a centinaia topi di tutte le dimensioni di tutte le età anche i più saggi e i più furbi tra loro credevano a ciò che la musica magica prometteva e la gente affacciata alle finestre appoggiata ai muri delle case guardava sterrefatta e felice quella smisurata fila di roditori che seguiva il suonatore finalmente quando tutti i topi della città furono riuniti dietro a lui il suonatore si avviò verso il fiume e le bestiole dietro sempre più affascinate dalla musica magica il pefferaio entrò ad un tratto nell'acqua e quelli ancora dietro avanzò ancora finché fu sommerso fino al collo e i topi lo seguirono incantati e fiduciosi egli allora si fermò in mezzo alla corrente e seguitò a suonare e i topi per un po' nuotarono e poi siccome da lui non potevano allontanarsi finirono per annegare tutti nessuno escluso allora il suonatore uscì dal fiume si scrollò l'acqua di dosso e si recò dal sindaco per ricevere la dovuta ricompensa il sindaco come lo vide entrare arricciò il naso e gli chiese che vuoi tu il sindaco si affacciò al balconcino del municipio e chiese ai concittadini quel che doveva fare e tutti furono d'accordo con lui e quegli avaracci che erano il pifferaio allora amareggiato e molto arrabbiato gli nacciò vi pentirete oh sì vi pentirete di quello che mi fate uscì in strada ed eseguì una scala col flauto soffiando a tutte gote poi aiutandosi con le agili dita emise dolcissimi suoni posto si videro teste di bambini guardare giù dalle finestre e volgersi verso il pifferaio poi un ragazzino uscì dalla casa e guardò con entusiasmo l'uomo che suonava a lui si unirono a due tre compagni e tutti guardavano come affascinati il suonatore e questi non smise di suonare anzi la sua musica diventò più dolce e persuasiva e nella mente dei bambini faceva nascere visioni di città tutte balocchi di città tutte dolci senza scuole senza adulti che volevano comandare ad ogni ora del giorno e la schiera ingrossava sempre più e tutti i componenti erano felici e ridevano e tenendosi per mano cantavano seguendo sempre più affrettatamente il pifferaio ed ecco i genitori rincorrere quella schiera di gioiosi figliuoli che se ne andavano con l'omino così come i topi che lo avevano seguito sino alla morte ma essi si stancavano da morire e non riuscivano a tenere il passo con i loro figli che camminavano sognando cose meravigliose il sindaco chiuso nelle sue stanze si strappava disperato i capelli intanto il suonatore si avviava verso la grande montagna che si trovava proprio alle spalle della città i bambini dietro cantavano erano così felici di seguire quell'omino che nessuno li avrebbe distolti dal loro proposito giunsero così a metà montagna al suono del piffero questa si aprì e tutti i pifferaio in testa entrarono nella fenditura che si richiusa ermeticamente dietro l'ultimo della fila e restò fuori solo uno zoppetto che non era riuscito a camminare veloce come i compagni i cittadini che giunsero sul luogo dopo qualche tempo lo trovarono là e piangeva disperato per non aver potuto raggiungere i suoi amici dei bambini non c'era più traccia e nessuno seppe mai ciò che ne fosse stato e nessuno lo trovarono là e nessuno lo trovarono là